ciao a tutti e benvenuti se amate la sbriciolata questa è la ricetta che fa per voi si tratta di una sbriciolata senza cottura vediamo insieme come si prepara vi occorreranno 500 grammi di biscotti io ho usato quelli digestive 500 grammi di ricotta 200 grammi di burro che andremo a fondere 100 grammi di gocce di cioccolato e 120 grammi di zucchero iniziamo tritando i biscotti come sempre io prendo un sacchetto per alimenti ci metto i biscotti magari non tutti insieme e poi li schiaccio con un matterello questa è la consistenza che dovete ottenere questi sono i biscotti pronti ho fatto fondere il burro e ho preso uno stampo di 24 centimetri di diametro che ho foderato con carta da forno alla base ora prendiamo i biscotti e aggiungiamo il burro fuso amalgamate per bene con una spatolina ora versate i due terzi del composto nello stampo schiacciate per bene la base e fate aderire anche un po ai bordi in modo che potrà contenere poi la crema di ricotta mettete lo stampo una quindicina di minuti in frigo e passiamo alla preparazione della farcia prendete la ricotta ed aggiungete lo zucchero mescolate con una frusta ora aggiungiamo le gocce di cioccolato e mescoliamo con una spatolina abbiamo preso lo stampo dal frigo e ora andiamo ad aggiungere la ricotta e livelliamo la superficie con una spatolina ora non ci resta che aggiungere i biscotti che sono rimasti fateli cadere a pioggia sullo stampo così ora chiudiamo con la pellicola e mettiamo a riposare in frigo per almeno un'ora apriamo la torta e trasferiamola su un piatto da portata ed ecco pronta la mia sbriciolata senza cottura se preferite invece della ricotta per la farcia potete usare anche crema pasticcera, nutella, marmellata o quello che preferite mi ringrazio e alla prossima videoricetta grazie a tutti